Buongiorno No, no, stesso La lascio No Sono finiti? La lascio La schede Via Grazie Buongiorno 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 Questo è un inviso al voto Contro l'attenzione Sì, sì, questo è importante Invitare tutti ad andare a votare È importante che tutti andiamo a votare Questo sì Questo lo possiamo dire Sul Ponte di Ferro Oggi dobbiamo rispettare il silenzio Perché è una disposizione di legge Quindi va rispettato il silenzio Perché significa rispettare Il consenso libero degli elettori I suoi avversari la stanno rispettando Il silenzio secondo lei? Perché ieri per esempio Quali era venuto al Ponte di Ferro? Anche la Raggi che è andata Ieri sera È in carica Però il Valtieri che è andato effettivamente Ed è un candidato Non so Non so cosa fanno gli altri Ok Ma io rispetto il silenzio Per una questione di Di correttezza nei confronti dei cittadini Si può raccontare come passerà la giornata? No Il silenzio Il silenzio Buona giornata a tutti Scusate che questa mattina ho fatto svegliere Scusate che ci toccava in ogni caso Com'è votarsi? 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 Com'è stato?